buonasera sono alessandro marconi pips fishing vediamo un pochino la situazione sui grafici giornalieri che sono diversi giorni che non le analizzo pubblicamente facendo un video e sono le 20 circa del primo marzo 2021 lunedì la giornata non si è ancora chiusa chiaramente però siamo già al primo primo giorno del mese e vediamo un pochino come come sono messi i grafici con il solito template quello con le due due canali più rsi e la forza candele intanto vi mostro il disclaimer perché non ho responsabilità su operazioni che farete sulle vostre piattaforme la mia è solo una videoanalisi con parere personale e quindi andiamo andiamo a vedere direttamente i grafici qui avevo chi mi ha seguito chi aspettate ecco chi ha seguito le mie i miei video precedenti sa che su ogni grafico metto delle righe verticali che segnalano gli eccessi dell'rsi oppure gli punti del prezzo dove c'è una una inversione dove c'è una fuoriuscita dal dai bordi di questo canale questo doppio canale partiamo subito dunque euro un dollaro avevo avevo indicato che era un possibile di questo lavoro scritto quando era in basso possibile ritorno verso 1 21 50 1 21 80 poi scorno a ribasso effettivamente si sta registrando tutto ok effettivamente la l'ombra di questa candela che era del 24 febbraio del 24 febbraio ha sforato perché è andata a finire qua vedete è andata fino a 1 22 e 43 però è stata è stata il tentativo di a lungo degli acquirenti è stato azzerato dai dai venditori che hanno riportato il prezzo all'interno di questa fascia di scambio di ruolo che avevo già disegnato un bel po di settimane fa e come vedete con il bordo superiore a 1 21 80 che ha tenuto il prezzo nonostante questo possiamo anche chiamarlo caccia agli scott ma io non credo molto a una caccia è un tentativo degli acquirenti che però non è andato a buon fine per cui la candela di venerdì questo è venerdì scorso è stata totalmente di rifiuto di questa aria ora siamo tornati anche un pochino sotto a questa aria qui dov'è 1 20 e 55 questa riga che però vedendo la ora io l'avevo allineata a questo minimo però con questo in questo punto del grafico io direi io direi di correggere un pochino e di metterla almeno all'altezza della della chiusura e dell'apertura di questa di questa candela e ci siamo proprio adesso sopra per cui la visione comunque questo ormai l'ha già fatto ma lasciamolo un attimo lasciamolo un attimo ancora valido e qui dovrebbe continuare la la fase ribassista anche perché aveva fatto l'eccesso del rsi ora è già arrivato quasi in fondo dalla parte opposta del canale però a mio a mio giudizio dovrebbe anche visto cosa fa il dollar americano contro le altre valute sempre bene avere una visione un pochino insieme dovrebbe continuare la discesa ok andiamo su euro gbp l'euro contro la sterlina tutte e due contro il dollar americano qui continua la forza maggiore della sterlina rispetto all'euro e il grafico continua a scendere qui c'è poco da commentare l'unica cosa è che questo eccesso vedete quando c'è un eccesso delle rsi affacco una candela sola praticamente due anche se questa è venuta fuori una pimba ribassista però quando c'è un eccesso delle rsi poi il prezzo deve sempre un po' compensare e quindi in questo caso tre giorni fa quindi queste oggi lunedì questa pin bar è di venerdì e questa è di giovedì scorso ha un pochino recuperato il valore delle rsi anche se la visione è totalmente ancora a favore della sterlina andiamo su euro e questi grafici li sto vedendo da pochi giorni ora quindi non ho preparato niente lo faccio lo faccio in diretta l'aggiornamento con voi e qui siamo totalmente rialzisti finché il prezzo rimane ecco l'aria chiave è questa questa grigia vergoglina vedo bene e finché sopra questa la la spinta è ancora rialzista comunque per me c'è questo questo massimo ho già segnato mi ricordo mi sembra 10 giorni fa prima che ci arrivasse io le cose dico prima non è che come tanti ci metto il paletto dopo che il prezzo ha fatto il movimento e vedete l'avevo messo allineato con questo massimo e effettivamente per pochissimo il grafico è andato a tristarlo e niente non è detto che nei prossimi giorni riesca anche a superare i 130 e 09 sono 130 e 098 vabbè 130 e 10 più o meno e siamo ancora totalmente rialzisti andiamo su euro audi che mi ricordo ha fatto una bella discesona e siamo qui c'è stata un po' una reazione vedete l'utilità di mettere i delimitatori dell'eccesso e quando il prezzo si gira questo l'avevo messo quando aveva fatto questa lunga candela positiva non l'ho messa prima perché non potevo sapere quando finiva questo questa discesa però una volta che ho visto questa candela ho messo il segnalino di eccesso di rsi ora essendo vedete ha rimbalzato da una parte all'altra ha fatto oggi un movimento contrario perché in questo caso le forze si devono bilanciare si devono un pochino assescare ecco qui c'era uno squilibrio visibile squilibrio e ora si sono un pochino ribilanciate e che dire anche qua siamo totalmente ribassisti siamo rientrati all'interno del canale più esterno perché c'è uno e due questo è il canale interno poi ci sono i due canali le due corsie chiamiamole tipo una crostrada le due corsie esterne dove il prezzo non prende prende velocità perché quando corre nelle corsie esterne sia al ribasso che al rialzo vuol dire che è forte la spinta diciamo che per fare un paragone con con il traffico con le automobili che sono le corsie diciamo di solpasso in cui il prezzo prende velocità ora appunto ha fatto un rientro di una candela nella corsia nella zona centrale però è tornata solo subito in basso perché la spinta dei venditori evidentemente ancora forte andiamo su eurocard eurocard è un brutto grafico perché questo lasciatemelo dire veramente in una fase brutta per poterla gestire però guardandola nell'insieme guardandolo nell'insieme abbiamo abbiamo vedete quest'area di scambio di ruolo chiarissima chiarissima che l'ha rispettata anche nei giorni passati e ora abbiamo ripreso con oggi a puntare la base di questa piccola congestione siamo sempre ma neanche inside perché non c'è una candela vera che che comanda il movimento è un gruppo di candele però la base di questo movimento attuale questa la lasciamo però mettiamoci anche mettiamolo intorno al al valore di chiusura invece che ai minimi a me piace tenere conto i valori più di chiusura e infatti se vado all'indietro vedo che il valore che ho segnato vedete che c'è questa fase qua che ci batte proprio a misura proprio con precisione per cui per me finché il prezzo rimane 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 sopra questo 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 livello di supporto non è il caso di provare a fare operazioni perché troppo congestionato l'andamento generale è chiaramente short perché il prezzo con le ultime candele 1 2 questa di erima è stata subito rifiutata e siamo rientrati qua e il prezzo dicevo ora nella nella corsia esterna inferiore quindi quando il prezzo è qui il trend è a ribasso è una cosa matematica non si scappa anche se per poterlo per poterlo tradare questo questo grafico deve almeno farmi un paio di chiusure sotto a questo livello di supporto a 152 e e 70 era vediamo un attimino non voglio dirvi cose sbagliate 152 e 27 152 20 quest'area qua andiamo sulla sterlina sterlina contro dollaro come dicevo per euro dollaro si sta rafforzando un po il dollaro quindi la sterlina ha fatto una lunga salita vedete che ha preso velocità ha preso forza e quindi ha fatto una corsa sulla corsia di sorpasso e ora è ancora nella corsia esterna però questa di oggi sarebbe la terza candela che dovrebbe chiudersi rossa quindi ribassista attenzione vediamo perché potrebbe anche fare una pin bar e riprendere riprendere lo slancio nessuno nessuno lo può sapere prima però tre candere rosse un pochino di di un indizio di debolezza della della sterlina o forza di dollaro me lo me lo fa pensare qui siamo messo questo supportino che prima era una resistenza ma l'altro caore vediamo ecco questo livello qui uno 38 e 31 vediamo un po la reazione interessante perché non è un non è una resistenza allucinante sinceramente sarebbe più sarebbe più questo un punto delicato perché ci sono c'è questo doppio massimo e poi qui si riparte quindi penso a vedere come si sta muove il grafico che almeno fino in quest'area ci possa arrivare poi qua 1 37 e 57 circa 1 37 80 poi quando arriva qua ma attenzione vediamo un po se ha voglia di ripartire a ribasso ok andiamo su scherzo in ien qui invece ancora forza della scherlina vedete ci sono due candele rosse che hanno un po spazzolato quest'area però già oggi siamo ripartiti a rialzo per cui anche qua siamo ancora totalmente by sterlina franco svizzero come il grafico di prima come sterlina yen 2 scusate due candeline rosse e però vedete quella di eri è una candela quasi l'indecisione quasi una goji e poi oggi ripartenza con barra un pochino più decisa rialzo ma soprattutto quello che mi mi fa dire che potrebbe fare un altro spunto a rialzo e ricercare gli ultimi massimi l rsi che possiamo allineare allora intanto il massimo è diventato questo ora siamo andati nella parte inferiore e potremmo aspettarci di ritornare verso i massimi ok andiamo sull'ultimo cross con la sterlina gbp card qui ho messo la continuazione by quando ha superato quest'area esattamente su questa questa candela qua questa che ha rotto quest'area effettivamente un pochino di rialzo l'ha fatto poi però ha perso ha perso un po di forza e ora la candela proprio di oggi è interessante io la trovo interessante perché è una netta candela ribassista che senz'altro non credo che chiuda sotto il minimo di eri ma però chiuderà molto probabilmente nell'area nell'area qua dell'ombra di eri quindi qui potrebbe esserci la almeno momentanea fine della salita e vedere un discreto ricracciamento su cui si potrebbe forse anche operare vedete che il rsi è girato totalmente a ribasso qui c'è una mezza divergenza perché il rsi è girato al ribasso insieme alla forza delle candele e il limite superiore qui del prezzo è quasi è quasi orizzontale per cui qui siamo siamo configurati per una discesa secondo la mia visione andiamo al dollaro usb jpy qui c'è poco da dire rimbalzo sul supporto questo l'ha fatto questo l'ha anzi questo l'ho scritto quando quando visco questa candela che mi ha fatto disegnare questa trend line è già un po che non guardo questi grafici quindi vedete che prima queste di queste frecce erano nell'area libera poi il prezzo si è mosso ma mi ha rispettato bene le indicazioni che avevo messo su sul grafico qui c'è questa bella trend line che farà da trampolino di bilancio quando il prezzo arci arriva ora qui attenzione perché siamo dalla parte dalla parte superiore di questa questa trend line siamo anche un pochino andati oltre l'allineamento per cui ci potrebbe essere un ritorno un ritorno magari non non profondo ma all'interno del canale anche se qua vedete che il trend si è chiaramente girato si è chiaramente girato non ritengo che sia un semplice ricracciamento di questo trend qua perché siamo troppo distanti dalla anche dal dal bordo dal bordo superiore del canale discendente io questo lo vedo l'inizio di una fase proprio di di salita piuttosto duratura usd card qui siamo in fase discendente e siamo ancora ancora in fase discendente anche se questa queste due candele hanno tentato un pochino di di reazione su questo su questo minimo su questo supporto però sinceramente non non ritengo che abbiano inficiato la fase di discesa di questo strumento il cad ovvero sia con il correlato con il petrolio è ancora in risalita e per cui usd card probabilmente scenderà ancora il card sarà ancora più forte del dollaro americano ok usd chf quindi questo è un po la conferma che eurogollaro continua a scendere perché usd chf spesso è lo specchio di eurogollaro come amo dire io qui si sale e basta mentre eurogollaro mi dà la conferma che non non avrà intenzione di tornare sui massimi ma potrebbe rompere questo il supporto 120 e 42 circa 120 e 40 e proseguire la discesa almeno usd chf per la corrispondenza mi indica questo come punto di di attenzione c'è quest'area qua quest'area qua segnata siamo vicini intorno a 0 91 e 80 circa un 0 92 diciamo 00 92 attenzione perché c'è quasi arrivato vediamo se fa un rimbalzo prende un attimo fiato e poi magari ricomincia a fare uno un'onda rialzista anche qua come forza siamo totalmente al rialzo audi usb anche qui ha fatto un lungo una lunga fase di di salita con due pause questa un po più grande questa più compressa e più diciamo confusionaria perché vedete che il lo spazio più stretto la larghezza e le candele non sono non sono a andamento regolare come ha fatto qua qua ha fatto un andamento un pochino più regolare e qui come come possiamo comportarci ha fatto questo massimo ora siamo rientrati il prezzo è rientrato in quest'area attenzione vediamo se l'allungo è quindi bisogna secondo me non avere fretta di considerare questa queste due candele la fine della discesa tanto è vero che oggi ha fatto una candela rialzista per ora è dentro la fascia di lateralità io finché resca dentro quest'area non mi sento tranquillo ovvero sia non non ho per certo una direzionalità quindi la tendenza è chiaramente long però il fatto che qua abbia fatto sì il nuovo massimo però ci sia stato questo queste due lunghe candele di rifiuto non mi fa sentire tranquillo per per dire si riprende a salire subito vorrei magari vederlo uscire da quest'area qua ecco ogni qua oppure dalla parte inferiore cosa che a livello di redditività sarebbe anche meglio perché vorrebbe dire che una parte di questa lunga di di questa lunga salita se la potrebbe anche rimangiare e noi potremmo sfruttare la la discesa che potrebbe anche essere per un primo periodo piuttosto brusca comunque però la che attendiamo che esca da quest'area qua di compressione nz di usb che è l'ultimo cambio è molto simile a usb che ve lo faccio rivedere e anche qua ha fatto due candele di rifiuto da questi massimi qui c'è l'area di compressione che vediamo se riesco allungarla eccola qua ci siamo proprio ci siamo proprio appoggiati vedete la candela di oggi si è appoggiata sul bordo dell'area è leggermente ripartita però vedete che cioè non è arrivata neanche a metà della della candela precedente di venerdì per cui non è una vera ripartenza secondo me io anche qua starei attento e aspetterei gli aspetterei più costo che riuscisse a bucare questo supporto per scaglia di supporto iniziasse a venire giù bene passiamo a petrolio vt ai che continua a salire si ha fatto due candele rosse però ragazzi siamo a 63 30 qui avevo messo questo target che evidentemente se si mettono i livelli bene poi il prezzo ci arriva vedete comunque non è che me li sogno la notte i livelli li vedo a secondo di come me li dà il grafico vedete questo 63 30 qui è diventato un livello di chiusura io l'ho semplicemente posposto al presente anzi quando ce l'ho messo messo al futuro perché non c'era ancora arrivato era appena uscito da questa congestione effettivamente me l'ha toccato e ora ha fatto due timide candeline di rimbalzo che però mi fanno ancora dire che si può tranquillamente salire ancora non due candeline così non sono certo un segnale di fine forza rialzisca finiamo con loro finiamo con loro che è quotato dollari cioè gold barra usd e con la forza anche del dollaro americano sta venendo giù l'aria l'aria di compressione è stata superata già da un pezzo avevo disegnato questo canale e beh possiamo un pochino allungarlo qui è la parte inferiore è un po un po sporco perché sarebbe sarebbe così beh non è facile non è preciso però in ogni caso siamo anche oltre il bordo inferiore segno che sta sta prendendo ancora più forza vedete che aveva fatto 22 swing questo ha fatto il minimo leggermente più basso del precedente qui siamo quasi allineati e poi però sempre i massimi decrescenti e poi qui ha dato ha dato un po il colpo al ribasso per cui qui siamo totalmente orientati alla discesa e vedete bene con gli strumenti che ho su questo template come facile trovare nuovi punti di di rimbalzo eccolo qua o qua oppure mettiamolo prudentemente qua al a livello di chiusura no a livello del minimo qui siamo a 1681 mettiamo cifra pari gai 1680 1680 questo è il prossimo target che è anche abbastanza vicino e non è che prossimo target del del colt ok e poi cosa abbiamo qui ho finito ho ancora il bucchiai questo l'avevo messo solo con fibonacci e chi chi segue le mie analisi e ha visto quelle precedenti ha visto che l'ho messo quando non era ancora qua al 100 per cento era ancora un po più basso e ha rispettato il 100 per cento ha rispettato il 14 6 ovvero sia il 114 6 e ha superato addirittura il 123 e 6 andando andando a fermarsi qua abbassiamolo un pochino comunque se segue ancora fibonacci dovrebbe dovrebbe a questo punto andare a cercare questi questi massimi qui a 66 e 45 oppure direttamente al 138 e 2 a 67 e 80 circa però a livello generale dovrebbe essere valido questo metodo qui di fibonacci sul petrolio perché ho messo il centro qua su questo supporto e lo zero in fondo ok ma questa è una cosa in più non perdiamoci troppo tempo ok io ho finito il video ho analizzato tutto e vi ringrazio per la visione vi do appuntamento alla prossima analisi ciao da alessandro